Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video tutorial In questo video volevo parlarvi di una nuova estensione per il vostro browser disponibile da soli 6 giorni Stiamo parlando di Malwarebyte Browser Guard Questa è un'estensione gratuita progettata per offrire la protezione di Malwarebytes direttamente al tuo browser È disponibile sia per Chrome che per Firefox Questa estensione ti consente di navigare fino a 4 volte più velocemente Questo perché accelera la velocità di visualizzazione delle pagine web Bloccando gli annunci di terze parti e altri contenuti indesiderati Risparmiando così larghezze di banda Inoltre rimuove fastidiosi annunci clickbait che spesso puntano a contenuti di valore discutibile Protegge inoltre la tua privacy infatti va a bloccare i tracker di annunci di terze parti Che ti seguono su internet e ti indirizzano continuamente con gli stessi annunci Blocca le pagine web che contengono malware e arresta i cryptojaker Ovvero tutti quegli script o comunque quelle estensioni in grado di minare criptovalute Se utilizzato in combinazione con Malwarebytes dovresti praticamente coprire tutte le basi di sicurezza Per aggiungerla vi basterà cliccare sul link presente in descrizione Arrivati su questa pagina vi basterà semplicemente cliccare sul tasto aggiungi E poi cliccare su aggiungi estensione E automaticamente l'estensione verrà aggiunta Ora andiamo su Google L'estensione aggiunge un'icona alla barra degli strumenti del browser Che indica il numero di elementi trovati nella pagina attiva Un clic sull'icona apre l'interfaccia di gestione che elenca i tipi di protezione abilitati E gli elementi presenti nella pagina In sintesi questa estensione protegge da 4 tipi principali di minacce Annunci e tracker, malware, truffe e programmi potenzialmente indesiderati Gli elementi bloccati sono elencati nell'interfaccia ma non ci sono opzioni per interagire con essi Ad esempio se si vuole utilizzare il singolo elemento Gli utenti che utilizzano questa estensione possono disabilitare alcuni o tutti i tipi di protezione Su determinati siti web Vi basterà infatti togliere la spunta da queste funzioni Per riattivarli ovviamente vi basterà cliccare nuovamente su DS Cliccando qui invece si va nelle impostazioni dell'applicazione E qui si può tranquillamente disattivare o mettere comunque in pausa l'applicazione Per riattivare la protezione vi basterà semplicemente cliccarci su Ora torniamo nuovamente indietro Cliccando sulla categoria statistica andiamo a vedere quanti elementi sono stati bloccati nell'arco dei 30 giorni Attraverso questa pagina possiamo quindi vedere se sono stati bloccati pubblicità, malware, scam, programmi potenzialmente indesiderati In conclusione posso dire che l'unico problema di questa estensione è che non offre alcun controllo Se non quello di attivare una protezione interamente per un sito o globalmente Per il resto posso dire che questa estensione a mio parere è la migliore in circolazione Sia per velocità che per sicurezza Anche perché non esistono altre estensioni in grado di inglobare tutte le funzionalità offerte da altri concorrenti Infatti nei video precedenti vi ho mostrato tre estensioni come Ublock Origin, Popup Blocker e NoCoin Ublock Origin bloccava le pubblicità, gli annunci e tanto altro Popup Blocker invece bloccava i popup Mentre NoCoin bloccava gli script e le estensioni che minavano criptovalute Questa estensione invece è in grado di fare il lavoro di tutte e tre le estensioni Ma con una sola installazione Per il resto ragazzi il video è concluso e vi ricordo che per qualsiasi dubbio o incertezza Non dimenticate che ci potete contattare attraverso i nostri gruppi ufficiali Potete farlo sia tramite il nostro gruppo Facebook che sugli altri social a nostra disposizione Come ad esempio il nostro gruppo Telegram Se vuoi rimanere sempre aggiornato unisci dal nostro canale Telegram e seguici su Instagram Con questo ragazzi mi invito a lasciare un bel mi piace, commentare se qualcosa non vi è chiaro E iscrivervi al canale attivando la campanellina posta lì di fianco Con questo ci vediamo al mio prossimo video, ciao!